E' come una scatola chiusa, non sai cosa c'è dentro, non vedi le corde, non le puoi toccare, non hai un contatto diretto, non è un oggetto che puoi portare con te. Il pianoforte rimane lì, in attesa, e tu puoi anche cercare di ignorare il suo sguardo, e a volte ti riesce anche bene, ma non puoi ignorare la sua presenza. Alla fine l'unica cosa che puoi fare è scegliere se sederti e cercare di aprire quella scatola.